C'è un barattolino dove c'è un cezzallo, ma dove si sta dentro? Ma che stai atto, l'altro, te ne metti, c'è un cezzallo, c'è un cezzallo, c'è un cezzallo, ma stai, ma te lo faccio io, ma stai, ma stai a te, c'è un cezzallo, ma tu c'è un cezzallo, terribile cezzallo, c'è un cezzallo. Grazie.